Per rispondere alla richiesta di una formazione più adeguata alle esigenze delle imprese, quattro tra le maggiori realtà del distretto del Valvolame, Rubinetterie e del Verbano, Cusi e Ossola, insieme a Confindustria, hanno dato vita a un'accademy. I corsi stanno per partire. Simona Marchetti. Il distretto della Rubinetterie e del Valvolame lancia un progetto formativo che avrà sede a Borgomanero. Si chiama Academy e organizzerà corsi aperti a tutti i lavoratori, sia occupati sia in cerca di occupazione. È stato un cambiamento fortissimo negli ultimi anni, dovuto all'industria 4.0, dovuto alle nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie richiedono sempre più personale qualificato. È importante che questa crescita sia collegiale tra tutte le industrie del territorio e tutte le imprese. La storia del distretto, che include circa 400 aziende e offre lavoro a circa 11.500 addetti, è raccontata nel Museo del Rubinetto di San Maurizio d'Opaglio. È un unico al mondo proprio perché racconta questa storia dell'idraulica, del rapporto dell'uomo con l'acqua nei secoli e in più racconta la storia del distretto industriale del Rubinetto. Quattro le aziende protagoniste di Academy. Il programma è stato poi sviluppato da Confindustria e dalla sua agenzia formativa Foraz, insieme al comune di San Maurizio. Academy partirà a fine gennaio e sarà coordinata da diversi comitati. L'Academy nasce per dare una risposta a una carenza strutturale di personale specializzato, in particolare in ambito di conduzione macchine utensili, conduzione di impianti automatici, sia di produzione che di asservimento, di impianti industriali anche legati alla manutenzione. Sarà gestita da differenti comitati. Il primo comitato è il comitato di indirizzo, all'interno del quale convoglieranno enti, scuole, università, centri di ricerca, e tutte le aziende che vorranno dare un contributo fattivo.